ciao a tutti da vj focus ci vediamo qui come ogni lunedì con il video mix quella di oggi tanta musica dance quella che ci fa ballare e canticchiare spensierati tanto ritmo ho selezionato per voi di viva tv come ogni lunedì la sera un mix di video i più esclusivi ma vi traduco in inglese today in video mix a squeeze of dance music that we can dance carefree while having today so much rhythm that i selected and mixed vj focus for you a viva tv every monday evening always with a mix of video clips that most exclusive bye bye ciao a tutti Grazie 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 a tutti